Non era importante ripartire in questa settimana, ricordiamo, dal 25 aprile al 1 maggio? Era fondamentale perché comunque nell'avvicinarsi della stagione estiva, si sa, noi sul mare siamo sempre avvantaggiati, invece questo è stato ulteriormente un colpo di grazia per tutte le attività economiche. Non capisco come si possono far stare aperti alcuni negozi e alcune attività invece devono stare obbligatoriamente chiuse. Non capisco il senso di questo provvedimento ulteriore del signor Marsilio, visto che tutta Italia ha ruvidito e non ha giallo e noi invece ulteriormente siamo rossi. Vorremmo solamente delle risposte da parte della Regione, immediate, perché questo è solo l'inizio. Noi siamo pronti a fare qualsiasi manifestazione pacifica, con mascherine, con distanziamento sociale, ma non ci fermiamo qui. Perché è impensabile che qui non si tuteli il diritto di lavorare, non c'è più il diritto di lavorare. Ci fa sentire che cosa vuole dire al megafono? Allora, adesso posso anche non utilizzarlo. Niente, sempre col buon senso, oramai c'è un concetto da esprimere. Noi non siamo gli agnelli da sacrificare, punto e basta. Le regole vanno rispettate, ma se diventano troppo oppressive e ingiuste da toglierci quello che è il diritto alla sussistenza e alla tutela della nostra famiglia, perché noi, ricordiamocelo, noi campiamo col lavoro, i nostri figli campano con il nostro lavoro. Quindi è giusto che non possiamo essere gli unici che vengono sacrificati di fronte a tutto questo.